La CGL scende in campo per chiedere una nuova normativa per la tutela dei lavoratori impegnati in appalti pubblici e privati. È già partita la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Il servizio è di Erika Baglivo. Sul palco le storie di un mondo del lavoro a ribasso, lavoratori in appalto che scontano sulla propria pelle i limiti di un sistema che non garantisce a tutti gli stessi diritti. Sette racconti che testimoniano, secondo la CGL, il limite raggiunto. Da qui una proposta di legge ed iniziativa popolare per la quale è partita la raccolta firme. Obiettivo tutelare i trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti privati e pubblici. Contrastare le pratiche di concorrenza sleale tra le imprese fondate sulla prevalenza del principio dei costi in alternativa a qualità del lavoro e capacità imprenditoriali. Tutelare l'occupazione nei cambi di appalto. Per questo si propone una clausola sociale riferita al mantenimento del posto di lavoro. Tra le misure proposte anche la responsabilità insolido del committente per quanto riguarda stipendi e previdenza dei lavoratori. Misure che dovrebbero compensare lo squilibrio tra chi ha più diritti e chi ne ha meno e garantire più trasparenza in un ambito troppo spesso al centro di scandali. La raccolta firme è partita il 12 febbraio. Per far conoscere la proposta si stanno svolgendo iniziative su tutto il territorio nazionale. Grazie. 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 Grazie.